Sono Alessandro Toffolo, frequento l'Istituto Alberghiaro Massimo Alberini di Treviso. Il cocktail Red Fox che vi presenterò rientra nel progetto F6 della Regione del Veneto del 2011, intitolato tecnico di servizio di marketing. Cocktail Red Fox Ingredienti 6 centilitri di prosecco extra dry 6 pezzi di liquido 5 centilitri di succo di albicocca 200 grammi di fragole Attrezzature Pestello Bicchiere da vino rosso Stealer Strainer Shaker Innanzitutto pestare la liquirizia e creare piccoli pezzi. Tagliare le fragole a metà. Frullarle con il mini pin per eliminare tutti i semi. Dopo aver preparato il tutto, mettere tre cubetti di ghiaccio nel bicchiere. Ruotare il ghiaccio con lo stirrer per raffreddarlo. E effettuare la stessa procedura per lo shaker. Nella parte in vetro aggiungere il succo d'albicocca. Nella parte in vetro aggiungere il succo d'albicocca. Servire con una decorazione a vostro piacimento. Grazie a tutti.